Noi prima di tutto chiediamo al Presidente del Consiglio dei Ministri di rimuovere un sottosegretario che dipende da Palazzo Chigi, poi se dovessero resistere andremo anche avanti se ce ne sarà bisogno e vorrà dire che tutto il Governo e tutto il Partito Democratico si assumeranno la responsabilità di non aver rimosso Maria Elena Boschi e quindi andremo avanti anche con altri generi di emozioni. Ma voglio dire una cosa, noi oggi abbiamo altre novità, noi oggi sappiamo da un'inchiesta del giornalista Meletti che Maria Elena Boschi non appena insediatasi, proprio per parlare di fatti, come Ministro nel 2014 convoca una riunione a casa sua col padre e con gli esponenti di Banca Popolare di Vicenza per provare a salvare la sua banca. Passa tutto il 2014, nel 2015 il suo Governo fa il decreto sulle popolari per rendere più appetibile la banca del padre e poco dopo va da Unicredit, Ghizzoni, e gli chiede di salvare la banca del padre e siccome Ghizzoni non ha ancora smentito, per me il tempo è scaduto e Maria Elena Boschi se ne deve andare insieme al Renzismo che ha infettato le istituzioni democratiche di questo Paese. Oggi non sappiamo solo che Maria Elena Boschi ha chiesto di salvare la banca del padre ad Unicredit, noi oggi sappiamo anche che mentre loro parlavano di rottamazione, pochi giorni dopo il loro insediamento hanno già deciso di cominciare a muoversi per salvare bancheture. La domanda che voglio fare è, Renzi non sapeva nulla di tutte queste cose, quando Maria Elena Boschi è venuta in Parlamento a dicembre 2015 a dirci guardate io non so nulla, non mi sono mai occupata di banca Etruria, adesso scopriamo che faceva riunioni con esponenti di altre banche decotte per salvarsi le banche e non i risparmiatori, allora a questo punto io voglio sapere anche se Renzi sapeva su questo tema e in ogni caso questa vicenda è veramente vomitevole.